salve a tutti io sono ciccio gamer cioè non è il mio nome però vabbè avete capito e oggi e quest'oggi giocheremo a roblox come vedete mi piace tanto scrivito alet ma quest'oggi giocheremo a non premere il bottone so che è una mappa vecchia che ormai non ci parla nessuno però è bello tornare alle vecchie abitudini ecco vediamo allora quest'oggi io io sono felice di fare un video questo video il mio primo video e spero che mi raccomando di lasciare like e di iscrivervi al canale ovviamente io ho già fatto qualche shorts del mio gatto cose del genere ora però ragazzi dobbiamo dire ciao ciao al mio gatto che è in svizzera oggi sono molto felice di essere quest'oggi noi giocheremo a questa mappa un po' vecchiotta allora ho già finito e sono molto felice e il suo roblox mi piace questo aggiornamento che ora sbatti gli occhi ma questa mappa è così vecchia che non si nota io comunque questa mappa ho già giocato un pochino ricordatevi il mio nome di roblox è black fratello mini e mi piace e dopo faremo anche altri video non solo così dopo giocherò ad altre cose non solo a roblox e ovviamente ragazzi se questo dico che è il mio primo video e dico che credo che stia andando bene vabbè comunque oggi sono felice sono felice che questo è il mio primo video ufficiale di youtube e quindi c'ho ancora un nome di youtube strano giuditta e a quanto pare oggi giocheremo e ho sentito dire che roblox va molto di moda e ovviamente se non mi ovviamente ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciarmi un bel mi piace se io lascerete mi piace farò una mini serie su questo se dobbiamo arrivare a 30 mi piace se volete una serie di questo comunque ricordatevi il mio nome è di roblox se volete diventare i miei amici black fratello mini qua in alto va bene quella tizia mi dà fastidio però comunque il contatto che io ce l'ho fatto quindi questo è l'importante comunque il bel contatto che ho vinto però voglio vedere se ce la riesco ancora a fare no perchè sono blu perchè sono blu vabbè ora cominciamo non me l'aspettavo non cadere va bene io non cado eh mi sembra facile non cadere ora arrivo ok no è facile non cadere perchè non può andare accidenti non si può saltare non si può saltare per questo che è difficile no non cadere non cadere si vai 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 nooo nooo non cadere no ho trovato il manco della vita ho trovato il manco della vita ok grazie ok grazie tizio grazie t'altra tizia allora vi decidete io mi piace mi piace alla vittoria alla vittoria di sparta giusto in tempo bottom evita il non avevo letto vabbè ragazzi spero che che spero che questo video vi piaccia mi raccomando so che lo sto dicendo tante volte ma se volete una mini serie su di questo scrivete nei commenti e lasciate un bel mi piace in modo da farmi un po' di piacere e ragazzi se voi farete questo io diventerò un dio vabbè aspettiamo a vedere e che no e che pensavo che dovessi e ragazzi se vi chiedete che perchè ho perso e perchè pensavo che tu dovessi salire sul cubo tipo da florislavo quanti soldi c'ho? quasi quasi adesso scrivo gli anelli di fuoco mi sembra facile salto e e alcuni hanno già fallito guarda quella cittura comunque ragazzi fra poco chiederò se ragazzi ci sarà una persona insieme ai miei video che si chiamerà The Shun Black e e lei sarà l'assistente segreta e mi ricordo se ragazzi ragazzi siamo tutti morti vero? ma non è una mia pensione ma non è un po' troppo difficile chi è? è un pro player chi è? guarda quella cittura ragazzi dite bu cittura dite bu cittura dite bu cittura ok ok capito se se ragazzi se mi volete fare un piacere iscrivetevi al canale ovviamente sapete che fate un piacere per motivi dopo ragazzi dovete volete dire se volete che io faccia una live oppure no volevo provare a prenderlo comunque ragazzi spero che questo video vi piaccia sopravvivi quindi devi rimanere sempre fa questo tipo così così puoi cambiare ecco infatti guarda buccittona ragazzi scrivete scrivete in chat buccittona se non vi piacciono i cheaters vabbè no scrivete buccittona scrivete buccittona no ragazzi comunque spero di esservi simpatico aiuto aiuto non mi potete vedere in faccia perchè non c'ho la camera evo cosa significa evo io so quanto a tutto qui sopra mina 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 se trasformate io ho detto completamente in un'altra mappa cioè cioè da non cliccare il bottone è diventato uno di quei simulatori in cui non devi in cui devi scavare io non voglio stare insieme alla gente perchè dopo mi rubo in qualche modo io ho acqua buccittone 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 scrivete buccittoni perchè una volta io su ragazzi scrivete buccittoni comunque ragazzi mi sa che non c'è affatto trovare questo diamante è davvero rarissimo ho capito ho capito ho capito forse ho capito dove è questo diamante vieni 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 nessuno ce l'ha fatta cioè è impossibile trovare quel diamante neanche l'acetona ce l'ha fatta l'ha fatta nessuno ha trovato il diamante fatta banana banana sono bruttissimi come banana però sapete cosa sarebbe bello la aveva skin da gatto per il banana gatto miam 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 preparati bombatti va bene non me l'aspettavo così forte questo guanto comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e io ricordatevi di scrivervi al canale e di lasciare un mi piace perchè mi farebbe piacere ricordatevi che se volete una miniserie su questo su questo ciao ciao